Oli! Guardate che vi ho riportato due anni dopo per le mia amica gattina! Molto più seria, meno azzurra. Allora, non so se vi ricordate, ma Giorgia è la mia amica che vi ho portato anni fa sul canale che aveva i capelli blu. Ora è diventata una persona seria. Una persona proprio pesata. Mi ha detto un attore che questo è un taglio da 45 anni divorziata. Male male, male male. L'espressione era questa. Io e Giorgia ci siamo conosciute ormai parecchi anni fa all'Accademia di Makeup. Quindi eravamo colleghe e siamo diventate amiche gattine. Credibile. E abbiamo deciso di fare una challenge oggi insieme. Deborah mi ha detto di preparare una pochette di trucchi che io uso abitualmente. Quindi io che sono tornata adesso a Roma da Taranto, ho preso la mia pochette che ho portato a Taranto e gliel'ho portata. Esattamente com'era. Con i trucchi che uso io. Quindi il mio fondotinta, il mio correttore, il mio prodotto per le sopracciglia e viceversa. Ovviamente. Esatto. Io ho preparato tutti i trucchi che utilizzo di più in questo periodo. I miei prefiprefi o i must have con cui mi trucco solitamente tutti i giorni. E gliel'ho dati. Anche qui il mio colore di fondotinta. Come potete notare c'è un po' di differenza. E tutto, veramente tutto, tutto, tutto. Quindi lei dovrà truccarsi con i miei trucchi e io con i suoi. È proprio uno swap di pochette. Ebbene ragazzi. Let's begin. Volevo dire. Io non ho idea di quello che mi ha messo nella pochette. Ecco io. Mi ha solo detto che mi odierà. No. No, io odierò lei. Ci odierò. Allora. Poi, raga, io vi devo far vedere una cosa. Fai vedere io che pochette ti ho dato. Questa super carina, sì, conografica. No, no, una pochette. Una. Lei mi ha dato una pochette. La valigia a mano della Yanner. E due patacche. Mi sono portata lo zaietto tipo... Liceo. Mi aiuto. Allora, iniziamo. A me per la base, Giorgio ha dato. Questo per il contorno occhi, che non so che cos'è. È un contorno occhi della Embryolisse. Con cui mi sono trovata un sacco bene. Anche la crema è molto bella idratante, ma l'ho finita. E questo, praticamente, te lo dovresti schiaffare proprio così com'è. Ok, perfetto. Però... Vabbè, magari faccio così. Non so, è il termine. Poi c'è il Blistex per le labbra. Che è tipo la cosa più da vecchietta del mondo. Io non ho dato niente per le labbra. Ma non è vero che è da vecchietta. Invece è un sacco idratante. Ma come non ho mai dato niente? E poi una cosa che invece mi ispira un botto è... Lamo. Questa crema della Origins Ginseng. È una cosa... È tipo un gel. Infatti l'ho finita. Perché l'amo. Io la metto tutte le mattine perché è super leggere e si assorbe. Bene, io ho iniziato questa. Io devo iniziare con quello. Io gli ho dato il tonico di Wet n Wild che, come potete notare, sto adorando perché è quasi finito anche quello. Vai, scusa. È super buono. Forse è un po' più lontano. E sta tantissimo di rosa. Sta molto di rosa, è moltissimo. Stiamo mischiando tutti gli odori, però questa è buonissima. È più bella già? Esatto. Ma quanto costa questa cosa? Troppo, vè? Tipo 33, una cosa del genere. Si può fare. Poi Deborah mi ha dato questo, che è un contorno occhi. Esatto. E ti ha dato il contorno occhi che sto testando in questo ultimo periodo, che è di Hello Body. Ne metto un po' qui. E quindi... Che brava, ragazzi. Poi dovete sapere che io e Giorgia abbiamo due stili di make-up molto diversi. Molto diversi mi sembra anche riduttivo. E credo che lo capiremo dal suo fondotinta. Waterblend. Scusate, non l'ho fatta a posto. No. No. Vado anche con... Potevo portarne un altro, ma perché? Perché? Avrei mentito. Esatto. Perché portarmi un qualcosa per fare una full face instagrammosa? No. Quando puoi darmi una cosa che copre zero i miei brufoli. Ma copre zero tutto. Fantastico. Cioè, si vede qualsiasi cosa che è quello che mi piace. Non vedo l'ora di usarlo. Quello lì comunque funziona un po' meglio se... Cioè, lo puoi usare solo per te stesso, praticamente. Vabbè, certo. Perché lo devi proprio... Spiattellare. Sì, un po' sì. Mi dai un po' di blistex, visto che non me lo so mettato io? Sto che sono vecchia. Sa di menta! Sa proprio di menta! Potete che fai questa mangiata? Ok, grazie. Prego, bella. Poi, questa. Che è il best seller del brand Dr. Jart. E mi piace un sacco. Però mi sa che... Ha un po' l'odore. Lo sai? Ha un odore un po' medicinale, però è buono. Però io mi sono innamorata ormai di questa. Ma anche il contorno occhi di quello è bellissimo. Ma poi guardate quanto l'ho usata. Io l'ho fatta un paio a tutti quelli. Tu fai prima la base o prima gli occhi? Io faccio sempre prima gli occhi. Brava, bella mia, brava. Io debba la servire solo in questo. Esatto, solo in questo. È nella vaga fissazione per l'illuminante. Esatto. Vaga. Qua come primer tu mi hai dato... Ah, questo me l'ha spoilerato prima. Sì. Nel pottino di MAC mi ha dato il primer di Urban Decay. Sì. Il... Come si chiama? Il primer person. Perché, ragazzi, occhio quando lo comprate. Apritelo, tagliatelo a metà perché dentro rimane un botto di prodotto e ne spiegate tantissimo. È super intelligente questa cosa che hai fatto. E invece Deborah mi ha dato quello di Smashbox, il Photo Finish 24. Ce l'hai tu questo? No, ho tutti i primer di Smashbox, tranne quello per gli occhi. Perfetto, così puoi provare anche questo. È super divertente, abbiamo tutti i prodotti diversi praticamente. Io ti ho portato poi delle palette che, boh, non so cosa ne penserai. Ma che capelli ho? Sembra un Lego. Va bene, posso dire che Deborah mi ha preso questa palette che io non ho mai usato. Sono molto curiosa anche perché, cioè, ma quanto è glitterata. Un sacco. Cioè, se Deborah fosse una palette sarebbe così, credo. Però quando la apri poi rimani un po' deluso, in realtà. Però la qualità di questa palette è talmente ottima, è la Sultry di Anastasia Beverly Hills, che si fa perdonare per il pack un po' extra all'interno, molto banale poi. Però posso dire una cosa che già vedo mi colpisce molto, che è il nero. Mi sembra un po' polveroso perché ha distribuito tutta la sua polvere negli altri. Negli altri ombretti. Ombretti e potrebbe essere una cosa molto grave. Però vabbè. Invece, Giorgia, come palette? Me ne date 4? 44. Le palette che mi ha portato Giorgia sono 2 della Visart. E io non ho mai provate queste palette. Mamma mia. E lei sta infissata sin da quando facevamo l'accademia. Ma in fissa marcia. Perché secondo me, per quanto non siano bellissime dal punto di vista estetico, ovviamente io comprerò palette per sempre, anche se queste mi soddisfano dal punto di vista proprio della scrivenza. Però sono i matti più belli del mondo. Io inizio a truccarmi che magari non faccio male. Vai, vai. Bella mia. Chi la usa quest'altra? Io uso solo questa. E poi mi ha portato anche iconica perché Giorgia dice che l'adora. Io sono fissa a questa. Voglio vedere come sta messa dentro. No, non male. Ben sova. Beh, oddio. Questa è la palette che mi porto ovunque. Yeah, il mio colore c'ha la solca. Perché lo uso per tutte le spose che ci sono. Io intanto sto mettendo Fresh, che è il color burro, proprio banale come Deborah. Non ci credo che mi ha insultato così, amica mia. No, perché pure tu inizi così, scusa. Sì, è vero, è vero. Perché io fondamentalmente non ho deciso cosa voglio fare con questa palette, che mi sembra un po' basica. Dai, siamo state complementari, ma no. Come faccio a usare un colore che non sia il rosa? Ti prego, obbligate. Mi scegli anche di che colore mi devo truccare? Come posso non dirti di usare questo che è stupendo? Ok, questo quindi. Quello è bellissimo, il viola è super bello, però è bello pure questo. Vabbè, facciamo così. Per evitare il rosa che lo uso sempre, userò questi due e il giallo. Sì, Gianni stai un po' esagerando con il rosa, eh. Sì, ho stufato. Ti video proprio. Quindi vado a prendere prima il colore questo, che è strano, è tra il viola e il rosso. Sì, ma so quanto è polverosa sta palette, però no? Io adesso dirò una cosa, che tutti mi odieranno per questa cosa, perché ritirerò fuori un argomento sul quale, cioè, la gente si è proprio accanita. No, mamma mia. Secondo me le palette di Anastasia Beverly Hills sono estremamente polverose, potrebbero essere anche un po' meno. Però la Soul Tree mi piace tantissimo. Rispetto alla versione che ho io della Modern Renaissance, adesso mi uccidete, perché ritirò di nuovo che la Modern Renaissance che ho io non mi è piaciuta. Secondo me la Soul Tree è molto, molto meglio, anche se è polverosa. Vabbè, ma io l'avevo già sentita mille volte, sta cosa che era polverosa, la palette, però che comunque la scrivenza degli ombretti valeva tutta la polverosità. Eh, con questa sono d'accordo, però con la Soul Tree, cioè, con la Modern Renaissance, secondo me il gioco non vale la candela. Però so che Anastasia ha riformulato le palette mille volte, secondo me io avevo quella un po' fallata. Guarda, a me questa cosa comunque del prodotto fallato può succedere sempre, eh. Sì, sì, sì. A me è successo con l'eyeliner di NYX, che è proprio... Eh sì. Era completamente, cioè, completamente fallato, mi si apriva tutto il prodotto. Ma è un peccato quando succede così. Sì. Perché poi c'è un'impressione di un prodotto che magari non è assolutamente quella giusta. È vero, è vero. Quelle pensi di questi prodotti? Eh, è pazzesca. Vero? Sono d'accordo. Allora questa l'ho comprata perché ho visto lo Shark, questo truccatore molto famoso, che la usava al Master che ho fatto e faceva questi trucchi pazzeschi solo con quella. Cioè faceva una base tipo in crema e poi usava quella. Assurda. Io sto infissa, alla fine sto facendo tipo un Elo Smoky Eye. Strano, che fantasia. Cioè io anche con i trucchi degli altri riesco a fare le solite cose mie, non ho parole. Però il colore che alla fine è rosato l'ha scelto Giorgia, prendetevela con lei. Io mi sto coprendo tutta la faccia con la palette. Brava. YouTuber professional. Sì, si vede. Io non so che sto facendo, sto mettendo questo colore perché mi ispirava, è tipo un pescatino. Io userei anche come cosa, come... Come blush. Però su queste palette così minuscole come fai? Ah, si mischiano tutti i coltori. Cioè devi fare tutto, devi fare il pennello piccolo. Non so. Comunque sta... Cioè quanto costa sta palette? 60 euro. Grazie Giorgia per avermi fatto appena spendere 60 euro. Birch, birch. E a mischiarli insieme così li definisco un po' di più. Io sto usando un sacco di colori power. Ho iniziato a prendere anche il viola, mi piace tantissimo. Che ti ho detto. E io mi sto attenendo un po' ai colori che ho anche addosso. In questo periodo comunque mi sto truccando tantissimo. Ogni volta con colori assurdi. Tipo? Ma tipo tutti quelli di quella palette là. Eh ma è... Cioè io se avessi questa palette... Cioè vi giuro raga, sembra... Ovviamente è la prima volta che la sto utilizzando, sto usando solo tre colori. Però per il momento mi sembra la palette con i colori power migliore che abbia mai provato. Cioè è veramente veramente bella. Ma poi come si sfuma? Benissimo. Cioè è assurdo. Io sono basica, di loro. Ma infatti vorrei mettere uno di questi, non so, cioè questi colori diciamo un po' più shimmer che mi sembrano... Sono belli. Vorrei metterli al centro e faccio pure io un elo, mi sa. Sto dicendo questo. Cioè siamo veramente noiose. Eh vabbè ma io non me lo faccio così spesso come te. Io ho tantissimo. Anche perché tu c'hai un occhio molto più giusto del mio. È gigante il tuo. Ma non è gigante il mio occhio? È semplicemente che ho un botto di spazio tra la palpebra e la sopracciglia. Cioè io fossi in te mi farei solo cut crease tutta la vita. Che è più o meno quello che faccio veramente. Io volevo usare i glitter però non c'entrano proprio niente. Infatti io sono troppo in difficoltà anche i glitter perché non so mai dove... O mi faccio un eyeliner e ci metto i glitter lungo l'eyeliner e basta. Ma le viste le altre polveri che ti ho portate? Non mi ha dato idea, meravigliosa. No perché dovete guardare questi glitter. Sono della stessa marca di quello che mi aveva preso Ele per Natale. E c'è anche rosso. Comunque essendo due colori un po' diciamo scuri non è che li puoi usare come punto luce al centro dell'occhio no? O fai uno smokey nero e ci metti quello sopra, uno smokey rosso e ci metti quello sopra. Ragazzi io vi stupirò. Userò il bianco matta per fare il punto luce. Ho deciso così. Follia. Follia pura. Ma io so così ma che so scena. Mi sarà piaciuto guardare assolutamente niente di quello che facevo? Io sono la persona più lenta della terra rispetto a te. Poi tra l'altro questo trucco un po' così un po'. Eh bello allungato. Ma questo perché ho gli occhi da gatto scusate. Mascara di Color Caramel. Io lo amo. Tu lo odi? Non lo so non l'ho mai provato. Ah. Sì. È tipo super bio questo mascara. Io lo sto usando solo quello. Lo provo anche perché qui la signorina non usa ciglia finte. Infatti guarda ridiamo oggi quando me le metto. Perché ho visto che me le hai messe ti odio. Ovvio. Io gli ho dato le ciglia finte come minimo. Lo sai che non è male sto mascara? Non lo so pare che vado a rincomare le pere nei giorni liberi. Però devo dire che un trucco così senza ciglia pinte mi stai facendo fare proprio un'eresia. Io dopo aver fatto questa sfumatura così da gattina. Andrei a mettere uno di questi shimmer. Però io di solito faccio così e siccome ho visto che Deborah me l'ha messa. Ci metto un goccino di colla. Per i glitter. La uso molto di più per gli ombretti così shimmer che per i glitter. Davvero? La un botto di più. Perché vabbè i glitter liberi a me mi stufano. Ma è soltanto una questione di praticità del prodotto. No lo capisco. Lo so che ti faccio sottolineare. Ho capito. Ma tu bella mia un primer viso? No io non lo metto. Non metto il primer viso. Cioè quindi io devo passare al fantastico e chiacchieratissimo fondotinta che non copre. Esatto. Guarda io ci metto un botto di crema. Ce ne metto tantissima. E poi mi metto quello. Allora io devo avvisarti di una cosa di questo fondo. Non è stratificabile. Perché una volta che tu hai applicato l'unico strato che non fa nulla. Dopo è immobile il fondo. Cioè non lo puoi muovere più se no fai buchi. In realtà è uno schifo. Un giorno mi spieghi perché l'hai comprato. Comunque vi voglio solo far sentire questo suono. Tutti zitti. È acqua. Lo so che è acqua. Lo so. Lo so. Però a me piace. Cioè a me piace quando lo metto. Perché mi dà un finish luminosissimo e zero coprente. Io non farei neanche questa cosa qua. E come fai? Cioè se fai così lo metto nel palmo della mano. E poi velocissimo con la spugnata. Oddio raga. È un'ansia eh. Meno male che si è rotto. Stavo per spendere 40 euro non per la paletta colorata ma per il fondotinta di Giorgia. Poi mi spiegherai perché tieni le scatoline. Devo venire a fare il decluttering anche a casa tua. Quando spendo troppi soldi per un prodotto tengo sempre la scatola per ricordarmi di quanto sono povera. Bene. Ma questo fondotinta non copre davvero. Niente. Nulla. Niente. Cioè è come se non mettesse nulla. Anche il... Oddio questa mi ha portato pure la paletta di correttori camouflage. Certo. Sono proprio quella cosa da makeup... Cioè tipo stereotipo del makeup artist. Quella palette. Lo so hai ragione. Questa è la verità. Però è come il discorso della visarte. Cioè non puoi non avere camouflage. Non puoi. Cioè io con il camouflage ci faccio le basi alle modelle. No però... Però ci puoi fare anche... Cioè io l'ho portato apposta perché quando c'è qualche imperfezione un po' più tenace i camouflage la coprono in un nanosecondo. Comunque sei incoerente Giorgia. Perché? Te lo dico perché come cipra poi mi porta la nabla. Che è tipo la cosa che pialla di più nel mondo. Sì perché poi io mi faccio il baking sul naso, sulla fronte e sul mento. E quello mi fa un effetto piallato incredibile. È vero sì. L'esco del viso naturale e quello pialla. Brava. Brava. Scusate se i miei metodi sono poco autonossi. Sono poco Instagram. Sono dei metodi che non dovrebbe scoprire nessuno. Adesso vado a provare per la prima volta quindi questo malloppo che costa tipo 100 euro. No 140 grazie. Ah perfetto 140 euro questa scatolina di latta. Che ha all'interno tutti i correttori. Cioè ma anche hai messo un altro correttore eh? Solo per le occhiaie. Ah e dove sta? È libero. Libero e felice nella sua scatolina. Io uso solo quello eh. I correttori questi te li ho portati perché sono gentile. Ah grazie grazie. Allora questo cibo è stupendo. Io uso queste scatole Giorgio. No le scatole di quelli non le posso buttare perché mi si rompe tutto. È iconica la tengo per ricordo scusa. Ho capito. Scusa se ti supporto Deborah. No ragazzi. No ragazzi. Ma non così tanto. Io raga che ho preso. Stavo spalando. Va bene. Mi devi mettere poco per volta. Poi hai preso il più giallo che c'è vuoi diventare non lo so cosa? Provali con il dito. Cioè vedi la scrivenza. Fai la makeup artist per te. Scusa. Allora devo dire che gli shimmer sono stupendi. Sono burrosissimi. Te l'avevo detto. No hai ragione. E mi ricordano vagamente devo dire anche quelli di Nabla. Con burrosità. È vero. Però questi sono ancora più... Più metallizzati come fai. No sono proprio più... Quando li tocchi senti proprio il velluto. Comunque mi ha fatto un botto di fallout il nero eh. Eh sì te l'ho detto che... Nero problematichello eh. Non too much pigmentati. Io voglio cercare il correttore... Non mi dico che è questo di Color Caramel. Io lo uso sempre. Quello mi copre benissimo gli occhiai e mi illumina. Bene. Però lo uso solo per me. Che se vi stai blastando? Questo qui l'abbiamo usato anche recentemente in un video. Che video era? Vi ricordate che video era dove provavamo questo correttore? Io no. Ah quello dei prodotti costosi. Perché questo è costoso? Eh mi ricordavo che Color Caramel anni fa costava un po' di più. Invece no. Com'è? Copre una gazza. Non è vero? A me copre un sacco. Ma tu non hai occhiaie. Manco tu. Oh vabbè. Dai. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Ti vedo Bela. Che tu me fa versacci. Ma io mi posso pulire il fallout in qualche modo? Cioè c'è qualcosa? Io sto ancora qua. Oh. Oh comunque sono riuscita a darmi un botto di coprenza al viso con questo correttore di Color Caramel. È stata tipo la mia salvezza. Ora mi faccio. Mentre Giorgia finisce gli occhi io mi faccio il baking con la cifra di Nabla e ci rivediamo tra poco. Non male. Io ho fissato la base. Adesso dopo aver messo il farsale. Mi ho anche fatto la parte sottostante. E adesso sto mettendo l'S Loader Double Wear che è uno dei miei fondotinta presi. Mai usato. Lo applicherò con la Beauty Blender dei cinesi. Da 2 euro. Contro fondotinta double. Non lo so. Trovo. Mille mila. Non lo utilizziamo. Seguamente il colore sarà il mio. Ma sai questo non è nemmeno troppo... Cosa stai facendo? Me lo sto mettendo qua. Perché questa è l'applicazione... No fai vedere. Fai vedere. Qua. Perché guardate ragazzi io voglio fare un appello a tutte le case cosmetiche. Ma che vuol dire che tu mi fai una boccetta così? Ma io lo dico tipo in ogni video calcola. In ogni video lo dico. Che vuol dire? Non vuol dire niente. Niente vuol dire. Intanto io da questa palette che ho anch'io che amo di NYX. È bianchissimo sto fondo. Ma dai. No vabbè. È ferocita. Non me l'aspettavo eh. Invece io come colore sto bene perché è il mio colore sostanzialmente. Non si vede quello che mi hai dato a me. E glielo rinfacciare tutto il giorno. Comunque dalla palette di NYX dei blush. Che non so nemmeno se esiste ancora. Ad ammettere questo blush aranciato. Ma io volevo che tu usassi l'altro. Eh l'ho visto l'altro ma era rosa. Non è rosa. Non è rosa. C'è una punta di arancio. Non ci credo. Ma forse fa pure un po' di flashback sto fondo eh. Perché dal vivo non è così. No secondo me è solo chiaro. Allora raga. Giorgia me l'ha dato una terra? Sì. Mi ha dato la palettina. Pure lei sta infissa questa palettina. di Smashbox che anche Leonora ama. Mi sa che è proprio la stessa vedi? Sì è la stessa. Sì la stessa. E la vado ad utilizzare per fare il contour. Questa l'ho già provata e so che mi piace molto. Diciamolo per favore a tutto il mondo. Mi sa lo so che mi hai detto. Camera. A camera. Mentre lei si è messa anche il correttore di Nabla. E la cipra l'ha messa? No ancora no. La cipra perché volevo dire come me la metto io di solito. Ok. Gli ho detto che secondo me sta molto meglio con la base che si fa lei di solito. Perché così è tutta piallata. Mi fa strano. Perché io Giorgia la vedo sempre proprio con la sua pelle. Quindi. Io la pelle per me raga è troppo importante che si veda. Cioè se c'è una pelle che ti piace che ti soddisfa che ha una grana che ti rende fiera. Non la devi coprire secondo me. Oppure cioè perlomeno devi scegliere di non coprirla sempre. Questa è la cosa che gli ho dato. La cosa che gli ho dato. Che mi ha messo Deborah. Io nel frattempo però faccio baking che io non faccio mai nelle zone del contorno occhi. Perché per me lì deve essere tutto completamente luminoso. Cioè tu non fissi mai il correttore tutto? No perché di solito il correttore si fissa. Almeno quel correttore inutile che ho io si fissa da solo. Questo devo dire va un po' nelle pieghette. Ma io preferisco che vada nelle pieghe piuttosto che vedere il contorno occhi un po' secchino. E invece mi faccio un baking molto cattivo sul naso. Perché se no mi lucido in un attimo. Cioè tipo io non potrei mai fare una cosa del genere. Io senza fissare il correttore. Cioè guarda. A me il tuo correttore che è troppo denso. Cioè è troppo cremoso. È già andato nelle pieghe. Perché quello non vale le pieghe? E io ci ho fatto baking. Non mi vale le pieghe quello. Non so perché. Vedi perché il make up è soggettivo. Sì. Allora io uso per fare baking. Non so se è stupido ma ci provo. La cipria di Nabla che mi ha dato Deborah. L'hai mai provata questa? No. È pazzesca. E poi per tutto il resto del viso come faccio di solito nella mia quotidianità. Uso la sua. Cioè non la sua nel senso di sua proprietà perché anche questa è di sua proprietà. Ma quella che ha creato Deborah e che mi piace un botto e che per me è la cipria da ritocco in giro. Grazie. Quella che mi porto tipo in borsa per l'evergenza. Io mi sento molto. Io lo sai che lo dico perché lo penso. A Deborah comunque questa cipria non serve. E io questa la metto. Io metto la snowflake. Ok. Che è quella trasparente. Sì io ultimamente sto usando quella. Tu non hai una matita nera? Tu questo mi stai dicendo? Te lo stavo facendo. Ti sto facendo questo torto. Cioè tu ce l'hai solo marrone? E vabbè. Me la sarò dimenticata. Ma è un bato di tempo che non uso la matita nell'occhio io. Lo so che ti sto dicendo una cosa assurda Deborah. Allora io uso questa marrone che è di Neve Cosmetics e si chiama ebano. Ah io ho messo la cipria prima di fare il contouring in crema. Ah beh. Geniale. Beh mi sa che puoi evitare di farlo allora. Io odio fare il contouring in crema. Odio fare il contouring in generale su di me. Non in generale. Perché. Però scusa fondamentalmente io non per tirarmela. Però qui ho lo zigomo abbastanza. Non ci credete l'amica mia staffa la vanitosa. No ma non è vanità dai io. È proprio una questione di conformazione scheletrica. Davvero. Chiaro esempio di faccia tonda versus faccia squadrata. Guardate com'è la mia mascella che scrive un angolo di 90 gradi. Io pagherei veramente la mia vita per avere la mascella come la tua. Allora Deborah mi propone due blush veramente rosa. Quelli sono i miei blush preferiti. Ma sono tipo uno te l'ha preso P? Sì. Questo qua. Sì. Che ti faceva schifo e poi in realtà ti è piaciuto un sacco. Bravo P. Dovete sapere che P è il mio contatto diretto con Deborah. Lo ringrazio tutti i giorni per questo. Spero che un giorno lui non mi odi definitivamente. Perché quando non riesco a contattare Deborah. Ora. Contattare Deborah. Contatto P e gli dico. Senti come faccio a sentire Deborah. E lui ogni volta mi dà un consiglio diverso. Però spieghiamo ragazzi. Io ho un brutto rapporto con Whatsapp. Cioè ho veramente un brutto rapporto con Whatsapp. Infatti ringrazio sempre tantissimo le persone che nonostante io su Whatsapp li risponda dopo mesi. Sì. Esatto. Mi vogliono ancora bene. Mamma mia quanto è freddo questo blush per me. Ma che cosa mi hai dato tu per le sopracciglia? Niente. Una gazza. Lo sai. Ma dovresti saperlo. Proprio lui. Lui. L'unico prodotto che io uso. Metterò solo il gel sopracciglia. Perché guardate con cosa hai fatto fare. Sei una vergogna. E io mi metto le ciglia finte te lo dico. No te le devi mettere. Mottata Larissa. Se arrivate a 10.000 like io do botte a Deborah la prossima. Allora lei utilizza questo coso di Studio 13. Questo coso lo vai a dire a qualcun altro. Che si chiama eyebrow cake. No cake eyeliner. Ed è praticamente un prodotto che si attiva con l'acqua. Cioè ci spruzzate sopra l'acqua. Si attiva e ci potete scrivere. Ma io mi rifiuto di usarlo e di farvelo vedere. Ma questo raga è un affronto. Ma in realtà a me piace molto ma non su di me. Mi metto l'illuminante di Deborah che è assolutamente anche quello a lei non è piaciuto. C'è un buco, un cratere. Quello è solo uno dei tanti. Ma l'illuminante? Ah Nabla. Si c'ho quello che secondo me sta meglio a te che a me. Raga io e Giorgia su una cosa nemmo d'accordo. L'illuminante. Cioè raga. Mamma mia devo rispolverare assolutamente questi illuminanti di Nabla. Io li amo quelli. C'erano proprio i miei prefi. Devo mettere le ciglia finte guarda che paranoia. Mamma mia. Setting spray omaggio raga. Di Max Factor. L'hanno regalata a mia madre da questo po' di. Sei pronta? No. Prendo anche il mascara va perché mi dice che bisogna unirli. Ma devo prendere pure la pinzetta? Io non me lo ricordo più come si mettono le ciglia. Cioè su me stessa ti ho mai messe. Ti sei messo un po' di illuminante? Sì certo. Non c'è solo una boccia. Però è qua mi piace troppo. Sono diventata una patetina fritta. Prendo ste cose. Che sarebbero le ciglia finte. Io ho i capelli come i pupazzetti della Playmobil. Guarda prima ho riso e basta però stavolta te lo devo dire è vero. Però sono molto belli. Domani me li vado a tagliare ve lo giuro. No insulti sui capelli grazie. Faccio questa cosina qui per ammorbidirli un po'. Faccio finta di sapere quello che faccio. Io non so che rossetto mettere. Senti io sono un po'... Cioè ti ho portato i rossetti che in realtà mi hai regalato tu. Sì me lo so accorta. Cos'è il domino di Nabla? Che colore è? Questo me l'hanno dato al corso. Un master. Super scuro. Penso che alla fine mi metterò questo di Astra. Il 13. Gossip Girl. Ah c'è il bambino. Questa dovrebbe essere la sinistra. Ma quanto sono lunghe? Ma che siete pazzi? Ma non si fai. Voglio questo momento per sempre. Ma scusate ma non esistono al mondo delle ciglia così. Dai. È per quello che sono finte effettivamente. Ma sai che quelle sono le mie da tutti i giorni? Meno male. No però diciamolo. Allora io non le metto ma non perché le disprezzi. Le ciglia finte sono bellissime. Come qualsiasi cosa di finto ci possiamo mettere sulla faccia. Però sul mio occhio qualsiasi cosa io abbia fatto viene coperto interamente dalle ciglia finte. Perché ovviamente ho la palpebra incappucciatissima. Però sono abbastanza confortevoli dai. Sì. Queste sono di The Creme Shop. Dai. Cioè guardate la differenza. A me secondo me ve lo chiude un botto l'occhio. Oddio so troppo su di queste ciglia. Eh vi ho detto cioè sembro una con la faccia così con delle ciglia così. Giorgia è ufficialmente madame piccione. Cioè Deborah giusto per farmi sentire in pace con me stessa spegnete le camere e dice sembri un piccione. Grazie belle parole. Ma io anche guarda io truccata così tanto senza ciglia non sembro un piccione burio. Sì. Senza sopracciglia. No non piccione tipo un asciura. Un barba Gianni. Non è quantificabile la bruttezza di me con queste ciglia finte. Che è la bruttezza di me senza le ciglia finte e le sopracciglia che poi ce l'ho tipo super asimmetriche le mie sopracciglia. No io invece guarda le mie super simmetriche. Senti a parte che ti si sta già levando sta ciglia. No io sono cioè io ora me le tolgo davanti a me e me le mangio. Cioè comunque questo video è la dimostrazione che non c'è giusto o sbagliato nel trucco mai ma c'è la soggettività che è sacrosanta. Cioè quanto sta meglio Deborah con una base come la mia delle sopracciglia come si deve e delle ciglia finte che queste per lei sono naturali e per me. Io voglio sapere però adesso una cosa del tuo make up. Cioè io ti voglio dire una cosa del make up che hai adesso che secondo me dovresti includere nella tua make up routine e tu a me. Vai inizia tu. Secondo me vabbè tu dovresti includere la palette che ti ho fatto provare. Ok e secondo me certe volte quando tipo ti fai solo ti metti soltanto il rossetto ti potresti fare una base così. Più leggera. Più leggera che poi alla fine cioè leggera. Sì cioè è relativo no perché con tutto questo illuminante. Secondo me tu invece dovresti innanzitutto usa il primer. Per forza perché un primer come il farzale comunque non ti va a fare la base più pesante. Me la regali? Sì certo 20 euro. Ma dopo io ho fatto una voce troppo brutta. E poi vabbè il resto delle cose già le fai. Perché le ciglia finte. Sì no le ciglia finte la base bocciate. Come io senza ciglia finte. Come tu sì sì sì. Esatto no quindi questo ce lo riprendiamo l'una dall'altra ripacciamo a scambio. Quanto mi piaccio eh non vedo l'ora di metterci le ciglia finte. Perché ovviamente adesso che mi trovo di una questa base con cui non voglio neanche andare in autobus. E lei si metterà le ciglia finte. Come sono diverse le persone. Bene ragazzi mi raccomando lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Se volete rivedere Gattina sul canale. Se vi è fatto piacere rivederla dopo due anni. Siamo invecchiate. Non vi da l'altro. Vi lascio il video che facemmo tempo tempo fa giù nell'info box. Mi raccomando andate a seguire anche Gattina sul suo profilo Instagram. Come ti chiami su Instagram. Giorgia slash Nassu Nelillo. E noi ci rivediamo qui sul canale molto molto presto. Ciao! 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 Grazie a tutti.